ciao a tutti da ermes greco e titina maroncelli volevamo comunicare a tutti i nostri fan che ci sposiamo no mi scappa la pipì aspetta finisco il messaggio non più a monte silvano ma a ponte corvo a frosinone ermes mi scappa la pipì aspetta finisco il messaggio quindi vi invitiamo non più il 24 maggio ma il 23 luglio a ponte si mi scappa la pipì aspetta che ho finito ermes quindi ricapitolando ci vediamo il 23 luglio a ponte corvo e tutte le coordinate le trovate sui nostri social non più a monte silvano come ho detto nei giorni feriali ermes mi scappa la pipì l'ho fatta qui nel letto